Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video di Minecraft Oggi siamo qui in un video particolare perché siamo finalmente nella sorta di sorpresa che vi ho detto anche con il post su YouTube che ieri vi ho svilato in live su Twitch Ovvero un server vanilla, il mio server vanilla Mi hanno aiutato Simone, principalmente ha fatto quasi tutto, mio fratello Simone ha buildato tutta questa hub E in questo video vi spiegherò come giocare Perché ci sono vari plugin, varie cose importanti che dovete sapere Quindi se volete saperlo state a guardare questo video Versione 1.17.1 Anche perché per Crackato, diciamo per SP E l'IP è mc.giacomov07.it Quindi potete entrare tutti, invitatevi i vostri amici che è molto importante Allora appena entrerete vi dovete fare il register, password come sempre Mettete una password che vi ricordiate mi raccomando E una password sicura Poi quando salete spawnati qua allo spawn Ci sono per clienti delle scritte volante Ovvero segui live su Twitch, giacomov07 Merita seguirmi là nel sito Viola Consulta subito il regolamento Fai slash work per regolamento E fai slash kit info per informazioni Quindi facciamo slash kit info Info E avrete un libro con tutta Proprio è la guida intera Tutto il server Se facciamo Tutto Anche se ve lo speriamo in questo video Se lascio guard Regolamento Ecco regolamento Non griffare Non scrivere sul t-chat Non inviare link o spammare Rispettare lo staff E non citare La pena verrà segnata Al momento dell'infrazione Posso bannarvi Mettermi in prigione Fare le robe che Perno vogliamo Anche se chiaramente I di alberi non è che fanno come vogliono Quindi eccoci qua Qua possiamo vedere che Abbiamo vari sentieri Dove portano lei alla casa Dell'owner Qua la casa mia Laggi c'è la casa di Simo Che è una sorta di casa dell'albero Sull'albero C'è una sorta di spiaggetta E qua c'è la prigione Quando uno verrà gelato Andrà a finire la prigione Ecco qua E qua potete pure vedere Tutte le persone Poi Ci sono quattro porte In base ai punti cardinali Quindi rozzo Est Ovest Per uscire fate Per esempio Slash Warp Porta Nord Eccola qua Perfetto E consiglio Fai slash RTP Per essere Trasportato Randomicamente Quindi se fate Slash RTP Vi verrete Trasportati In un punto a caso Del mondo Insomma Quindi Ecco qua Simone Adesso facciamo Che magari vogliamo andare Un attimo In giro Quindi facciamo Slash RTP Poi teleportiamo In questo caso Magari No ho sbagliato Ti ho portato a glory Ok aspetta 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 Meglio così Aspetta Io torno un attimo Faccio ragazzi Slash Warp Spawn E aspetta un attimo Questi secondi E magari Visto che non avete Il OP Come Giacomo Avete i comandi Necessari Per cosare Io Per Giocare Diciamo Quegli Io posso fare Slash Slash TPA E il nome Del giocatore In questo caso Giacomo E arriverà Una richiesta Di teletrasporto Mia a Giacomo Giacomo dovrà Accettarla In questo caso Il vostro amico Un giocatore Verrà accettata Sì Eccolo qua Tieni Ecco Molto importante Comunque Sempre parlando di kit Gli abbonati Hanno il loro kit Slash kit Abbonato In questo caso Non lo faccio Praticamente è un kit Tutto in diamante Incantato Fortissimo Quindi se volete Abbonarmi al mio canale Twitch Link in descrizione Potete farlo Gratuitamente Con il prime Quando sto in live Punto esclamativo Prime E potete farlo Semplicemente Molto Molto easy Poi Fate conto Che voi volete Buildare una vostra casa Per protegger Diciamo Dagli altri player Fate così Andate in un altro punto Che volete Claimare Fate tasto destro E avrete Il vostro claim Se volete Poi che magari Un vostro amico Possa diciamo Accedere Fate slash trust Nome del vostro amico E potrà buildare E fare tutto quello Che vuole In questo claim Anche se Avete Anche se guardate Questo video Mi raccomando Andate assolutamente A guardare la guida Perché è importantissima E vi spiega Un sacco di cose Che magari Non spiegheremo qua Poi facciamo Che Ed in caso Voi avete più claim E voi fate Slash trust Giocatore Non Il giocatore Non potrà Ehm Che potrà Costruire E rompere Solamente Nel claim In cui siete Al momento Del slash trust Nome giocatore Molto figo Poi facciamo Che vogliamo Alla nostra casa Quindi facciamo Slash set home Casa Per esempio E quando farete Slash home Casa Casa Andrete praticamente Vi trasporterà Al punto In cui avete fatto La slash Set home Quindi è molto figo E avrete un massimo Di tre case Mi sembra Per Sì Se siete Diciamo Player classici Avete tre case Se siete abbonati Ne avete cinque E vabbè Noi player Noi helper Ne hanno dieci Vabbè Poi volendoci anche Slash A chest trust Giocatore Che dà il permesso A un player Di usare Il letto Bottoni All'interno All'interno di un claim Quindi non può rompere Né Dispiazzare Robbe Può solamente Utilizzare il letto E sarebbe qua Con slash container trust Potrà Aprire le chest Letto Animali Bottoni E leve E se poi fate Slash trust Avrà il pieno Diciamo Utilizzo Poi puoi fare Slash trust List E ti dà I permessi Che hai In questo Nel claim In cui sei I permessi Che hai dato A dei player E niente Per ora Mi pare Ah sì Se poi volete Eliminare una casa Che avete fatto Fate slash Del home Casa Diciamo Quindi molto easy E in teoria Abbiamo detto tutto Credo Che Che altro c'è da dire Vabbè c'è il warp Che come avete visto Prima per teletrasportarsi Il random tp Che è quello Che abbiamo fatto vedere Ora Il tpa Che è per teletrasportarsi Da un giocatore Il claim Per chiudere una zona Se poi volete Abbandonare un vostro claim Fate slash Abbandon claim Esatto Ah è una cosa Importantissima Mi dai Ah non c'ero già Uno stick E che con gli stick Potete vedere Dove ci sono i claim Quindi se per esempio Adesso ricreiamo un claim Faccio lo stick E con lo stick Possiamo vedere Se una zona È claimata Oppure no Quindi almeno potete vedere Dove costruire Molto figo Poi fate Vabbè Slash Abbandon claim Come ho già detto E potete Abbandonare Il vostro claim Il vostro claim In cui siete Al momento Del comando E niente Per questo video Molto breve Può essere tutto Mi raccomando Venite a seguirmi Live Cercherò di farle Più o meno Tutti i giorni Per quando iniziare La scuola Chiaramente le farò Molte di meno Però Link in descrizione Del mio canale Twitch Vi ricordo che Se volete abbonarmi Con il Prime Gratuitamente Ecco avete Dei vantaggi Sia su Twitch stesso Che appunto Nel server Vi ricordo che l'IP È mc.giacomo07.it E potete entrare tutti Anche da Crackato Da Giacomo E se me è tutto ragazzi Ciao ciao